Ho parlato con un amico che darà un posto per dormire al tuo tipo, se lascia la casa spontaneamente. C'è il mio telefono, fammi chiamare. Grazie. D'accordo. Prue, vuoi che veniamo con te? Quel poverito non riesce a parlare con una persona, figuriamoci con tre. Allora, si va a pranzo? Un'ottima idea, vi dispiace se ci uniamo? È bellissimo due coppie in città nel mondo reale, che c'è di meglio? Che ne dici? Certo. Allora, che ne pensi dei Niners? Cosa? I Niners, i 49ers, la squadra di football. Non segui il football? Non è di questo mondo. Stai bene. Il conto. Torniamo subito. Mi dispiace che Leo abbia fatto la proposta di pranzare insieme. No, non è questo. Cole si sta allontanando da me. Me lo sento. Premonizione? Intuizione? Oh. Senti, Cole, prima che tornino le ragazze, ti devo dire una cosa. Qualcosa fra i denti? Cosa? No, no. Riguarda Phoebe, vedi. Io sono molto protettivo verso di lei. Tutti noi. Lei è molto dolce e... E ha passato dei momenti bruttissimi. Sì, capisco. Le piaci molto, te l'assicuro. E quali che siano le tue intenzioni, voglio che tu sia sincero con lei. Non voglio vederla soffrire. Questo neanche io. Ehi, che dicevate? Leo, mi stava consigliando alcuni investimenti. Davvero? Sì. Bravo. Oh, vogliamo dividerci il conto. Leo, hai dimenticato di nuovo il portafoglio? Sì, credo. Grazie. È una cosa urgente. Scusatemi. Beltasò. Ho avuto il messaggio. Ti ringrazio di avermi mandato la strega. È andata come dicevi tu. Grazie. Avete avuto un contatto fisico durante l'incantesimo? Ho sentito... Ho sentito qualcosa passare da me a lei. Sapevi che sarebbe successo? È accaduto anche a te, no? Quanto tempo le resta? Lei è una mortale. Non sarà in grado di lottare come fa un demone. Le do un giorno e poi sarà schiacciata dal peso delle emozioni umane. Ti divertirai a guardarla. Sarò fuori città. Non voglio vedere le altre due sorelle soffrire per lei. Compassione. Da te, Beltasò? Forse sei stato troppo a lungo in incognito. Non ti riguarda. Giusto. Mi interessa solo trovare colui che mi ha maledetto, padre Thomas. So dove andare a cercarlo. No. Non posso rischiare che le streghe ti trovino e annullino l'incantesimo. Dimentichi chi ero io prima di essere un empatico, Beltasò. Io sono immune ai loro poteri. Può darsi, ma non sei immune ai miei. D'accordo.